Grazie, consigliere Bertola. Grazie a tutti. Non è tanto provare una nuova mozione, che ben venga, perché se non si è fatto niente forse serve una nuova mozione, però è capire perché la stessa amministrazione che adesso ripropone la mozione in dieci anni non è riuscita a ottenere niente, quindi quali siano le vere resistenze all'interno della macchina comunale che impediscono l'edizione del software libero, perché attualmente a noi è toccato sentire anche durante l'iter della mozione, sentire i dirigenti comunali che dicevano ma in fondo ma questo software libero è complicato, abbiamo provato, non funziona, alla fine ci costa meno tenere il software proprietario Microsoft e così via. Cioè è chiaro che se l'atteggiamento della macchina comunale è questo non otterremo granché e purtroppo bisogna dire che a livello informatico l'amministrazione è ancora l'età della pietra, perché non riusciamo nemmeno ad avere un wifi nelle sale di unioni, nella sala rossa eccetera, il CSI c'è questo 120 mila euro per mettere un wifi in questa sala. Se tu provi, come è successo a me, a mandare i file agli uffici comunali, ma anche lo succede ai cittadini che fanno le pratiche negli uffici tecnici, in formato aperto, ODS, ODT eccetera, si sente rispondere cos'è questa roba, non me la apre, non so cos'è, clicco e non succede niente, per favore mi mandi Word, mi mandi Excel. A noi stessi consiglieri comunali è stato consegnato un PC con Windows, senza neanche chiederci se lo gradivamo, e quando ho chiesto se potevo toglierlo e metterci Linux, mi è stato detto no, Linux non è possibile, non è supportato, non avete diritti, tenetevi Windows che il comune vuole che vi teniate Windows. Ma peggio ancora, ci è arrivata recentemente una proposta di modifica del regolamento comunale, per quanto riguarda le riprese video del Consiglio Comunale, che invece di dire che le riprese video sono open data e quindi chiunque se le può prendere e fare quello che vuole, mette tutta una serie di lacciuoli, bisogna presentare una richiesta scritta, impegnarsi a non modificarle, a non alterare, a non tagliare, a non incollare, per cui paradossalmente facciamo la mozione per dire che siamo tanto bravi e facciamo il software libero e gli open data, poi quando tocca a noi, la prima cosa che facciamo è mettere tutti i tipi di lacci e lacciuoli, fare esattamente l'opposto di quello che scriviamo nella mozione. E vorrei anche chiudere dicendo che i gruppi del Consiglio Comunale, soltanto qualche mese fa, hanno insistito per avere la possibilità di usare i fondi di funzionamento dei gruppi per dotare i consiglieri dell'iPad, noi siamo stati l'unico gruppo che l'ha rifiutato. L'iPad è esattamente la cosa più chiusa che esiste, quindi in questo momento gli stessi consiglieri che votano questa mozione, molti di loro hanno sulle gambe un iPad, un sistema chiusissimo, che è esattamente l'opposto di quello che ci stiamo impegnando a portare avanti. Per cui a questo punto chiederei che almeno siamo coerenti, quindi se votiamo queste mozioni va bene, però chiediamo magari agli uffici di riprenderci tutti i nostri computer e ridarceli con Linux, così almeno avremo fatto un gesto concreto e non soltanto parole. Grazie.